Ciao a tutti, vediamo dei problemi sui sistemi di riferimento non inerziali e sulle forze apparenti. Il primo problema dice che sulla prua di una nave che viaggia nel mare in tempesta un marinaio conduce un esperimento che consiste nello stare in piedi su una bilancia. In acque calme la bilancia segna 81,65 kg, mentre durante la tempesta il marinaio rileva una lettura massima di 102,06 kg e una minima di 62,60 kg. Dobbiamo determinare la massima accelerazione verso l'alto e la massima accelerazione verso il basso rilevata dal marinaio. Indico con m la massa rilevata nel sistema diciamo inerziale, poi abbiamo una massa massima, 102,06 kg e una massa minima. Possiamo considerare questo problema simile a quelli sull'ascensore, dove abbiamo una variazione della massa misurata dalla bilancia, quindi abbiamo una variazione del peso, un peso apparente, dovuto a un'accelerazione. Analizziamo cosa succede quando la bilancia dell'ascensore segnala 102,06 kg, ovvero la massa massima. Siamo nel caso di accelerazione verso l'alto, perché abbiamo visto il caso dell'ascensore, quando l'accelerazione è verso l'alto noi percepiamo un peso maggiore. Questo peso apparente, che è dato dalla reazione vincolare, è uguale a m per g più l'accelerazione, che in questo caso è l'accelerazione verso l'alto. Al posto del peso apparente sostituiamo m massima per g, che deve essere uguale a m per g più m a massima. Qual è l'incognita? L'accelerazione. Noi stiamo cercando l'accelerazione massima verso l'alto e l'accelerazione massima verso il basso, che noi possiamo indicare con a min. Abbiamo un'equazione nella quale l'incognita è l'accelerazione verso l'alto, per cui semplicemente portiamo m g dalla parte di m max e quindi raccogliendo g abbiamo questa differenza. Dividendo tutto per m otteniamo l'accelerazione che stiamo cercando. I valori da sostituire, m max 102,06 m 81,65 otteniamo 2,45 metri al secondo quadrato. E ora occupiamoci dell'accelerazione verso il basso, indicata con a min. La differenza è che il peso apparente questa volta è dato da m per g meno questa accelerazione. Perciò analogamente a quanto fatto prima, qui scriviamo m minima per g uguale m per g meno m per questa accelerazione minima e ricaviamo questa accelerazione. E in definitiva l'accelerazione che stiamo cercando è uguale a g che moltiplica m meno massa minima tutto fratto m. Sostituiamo i valori, m è sempre 81,65, massa minima è 62,60 e si ottiene 2,29 metri al secondo quadrato. Vediamo ora questo problema. In un esperimento di fisica sali su una bilancia pesa persone situata in un ascensore. Sebbene il tuo peso normale sia di 610 N, la bilancia al momento segna 730 N. Abbiamo tre domande. L'accelerazione dell'ascensore è verso l'alto, verso il basso oppure nulla? Calcola il modulo dell'accelerazione dell'ascensore e puoi dire qualcosa sulla velocità dell'ascensore. Ovviamente se la bilancia segna un valore diverso dal cosiddetto peso normale, quello che si otterrebbe in un sistema inerziale, vuol dire che il sistema non è inerziale, cioè l'ascensore è in accelerazione. E per quanto abbiamo visto, se la bilancia segna un peso maggiore, vuol dire che l'accelerazione è verso l'alto. Quindi noi possiamo giustificare la risposta facendo riferimento a quanto abbiamo visto nel video di teoria e nel problema precedente, cioè quando l'accelerazione è verso l'alto, noi abbiamo la percezione di un peso maggiore. Quindi l'accelerazione è verso l'alto. Indicando con Fp1 la forza peso normale e con Fp2 la forza peso sull'ascensore, abbiamo visto che N peso apparente è Mg più M per A. Perciò se dobbiamo determinare l'accelerazione scriveremo M A uguale N meno Mg. Ma attenzione N è quella forza segnata dalla bilancia, cioè 730 N, quindi è quella che noi abbiamo chiamato Fp2, mentre M per G è Fp1. Pertanto l'accelerazione è la differenza tra i pesi diviso la massa. Ora attenzione la massa dove la ricavo? Dal peso normale. Io so che Fp1 è uguale a M per G. Pertanto qui andremo a scrivere forza peso 2 meno forza peso 1 diviso la forza peso 1 fratto G, che poi vuol dire G che moltiplica Fp2 meno Fp1 fratto Fp1 e otteniamo in definitiva 1,9 metri al secondo quadrato. Cosa possiamo dire sulla velocità? Beh, l'unica cosa che possiamo dire è che qui abbiamo un'accelerazione verso l'alto e che quindi la velocità sarà rivolta verso l'alto. Una lampada di massa 5 kg è appesa al soffitto di un ascensore di massa 600 kg. L'ascensore è accelerato verso l'alto da una forza costante di 6860 N e la lampada si trova a 2 metri dal pavimento dell'ascensore. Dobbiamo calcolare l'accelerazione dell'ascensore e la tensione del cavo che regge la lampada. Qui abbiamo questo quadratino che rappresenta la lampada che si trova a una certa altezza. Questo è il peso totale, lo indicato con P, peso totale che tiene conto della massa della lampada e della massa dell'ascensore, per cui noi possiamo scrivere che F meno il peso totale è uguale a M per A. Da qui ricaviamo che l'accelerazione è forza, quella fornita dal problema, meno peso totale che vuol dire massa della lampada più massa dell'ascensore tutto per G e questo va diviso poi per M che è sempre la massa totale, quindi massa della lampada più massa dell'ascensore. La massa totale sarà quindi 605 kg e facciamo i conti. E questo è il risultato. Ricordate F è uguale a 6860 N. Ora come facciamo a determinare la tensione nel cavo? La tensione nel cavo la indichiamo così e qui indichiamo massa della lampada per G. Se stiamo considerando solo l'oggetto lampada, le forze che agiscono sull'oggetto lampada e che determinano l'accelerazione saranno la tensione T e questo peso, per cui avremo T meno massa della lampada per G uguale massa per accelerazione, secondo principio, per cui la tensione è uguale alla massa per G più A. Stiamo andando verso l'alto e quindi la tensione è 5 kg per la somma tra 981 e 1,53 metri al secondo quadrato. Risultato 56,7 N. Aggiungiamo ora un paio di punti interessanti. A un certo punto il cavo si spezza e la lampada cade a terra. Calcola l'accelerazione dell'ascensore immediatamente dopo che si è rotto il cavo che regge la lampada. Questo è molto facile perché noi dobbiamo utilizzare la formula dell'accelerazione che abbiamo visto in precedenza, cioè questa, nella quale non consideriamo la massa della lampada perché se il cavo si spezza la lampada viene liberata e quindi le forze che agiscono sono la forza verso l'alto e poi abbiamo la massa dell'ascensore. Quindi abbiamo F meno M dell'ascensore per G tutto diviso massa dell'ascensore. E questo è il risultato. E poi vediamo l'ultimo punto. Calcola il tempo impiegato dalla lampada a cadere sul pavimento dell'ascensore. Ora se scriviamo la legge oraria del moto uniformemente accelerato in verticale scriviamo posizione iniziale, poi velocità iniziale che è nulla e poi mettiamo un mezzo accelerazione T al quadrato. Ora però facciamo bene attenzione. Se non hai visto il video precedente ti consiglio di dare un'occhiata ora, perché ora dobbiamo considerare che l'accelerazione assoluta, quella rispetto al sistema di riferimento inerziale, è uguale all'accelerazione relativa più l'accelerazione di trascinamento, dove nel nostro caso l'accelerazione rispetto al sistema di riferimento inerziale non è nient'altro che l'accelerazione di gravità, meno G, perché è rivolta verso il basso. L'accelerazione di trascinamento è l'accelerazione dell'ascensore, quella che abbiamo chiamato semplicemente A e che abbiamo appena determinato perché siamo nel caso in cui la lampada si è staccata dal cavo e l'accelerazione relativa è quella che ci serve per andare poi a determinare questo risultato. Perciò l'accelerazione relativa è uguale a meno A più G. E ora noi andiamo a sostituire questo termine nell'equazione qui riportata. Y nella posizione finale è zero, quindi qui avremo zero uguale H meno un mezzo A più G per T al quadrato. H è la posizione iniziale, quindi abbiamo che T al quadrato è uguale a 2H diviso A più G, da cui il tempo è la radice quadrata di 2H fratto A più G. il tempo è 0,59 secondi. Bene, questo video termina qui, spero vi sia stato utile. Io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao!